La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è stata sicuramente una delle più chiacchierate video di questo grande fratello VIP. Questa coppia è stata criticata sin da subito, soprattutto per il comportamento della sorella di Belen, la quale ha lasciato Francesco Monte, con cui era fidanzata da ormai quattro anni, per intraprendere questa nuova storia d'amore con il ciclista Ignazio Moser. I due ragazzi sono stati criticati e buttati fuori dalla casa più spiata d'Italia, dagli utenti del web. A causa delle loro eccessive effusioni di fatti si sono appartati più volte dietro la fatidica tenda rossa, per poi passare all'armadio. La neocoppia è stata tartassata, mortificata e annientata per questo gesto di appartarsi nell'armadio, un gesto che a tutti non è parso come un semplice bacio. Una volta uscita dalla casa del GFVIP, la showgirl argentina ha rilasciato varie dichiarazioni in merito a molti accaduti che le hanno messo inevitabilmente i telespettatori contro. Dopo aver fatto l'amore video anche se la Rodriguez una volta uscita dalla casa, ha affermato che Ignazio le raccontava delle storie e che tra di loro non c'era mai stato nulla. Ignazio ha detto una frase che non è piaciuta molto ai telespettatori, una frase che ha fatto parlare molto e sicuramente in modo negativo della sua persona. Mi sono svuotato. La reazione della Rodriguez non è stata poi così eccessiva come tutti si aspettavano, anzi. Alla showgirl è stato chiesto da una giornalista di Riccardo Signoretti cosa pensasse di quella frase. A quanto pare la ragazza non ha niente da criticare al proprio compagno, in quanto da lui è stata detta la verità. Non è di certo una novità che la piccola Rodriguez appoggi il suo compagno già in passato, quando si parlò dell'ossessione del piccolo Moser di valutare tutte le donne con cui è stato in intimità con delle stelline. Lei sembrava essere entusiasta, richiedendo spudoratamente di essere inserita nella lista per avere il massimo dei voti. Ignazio Moser fuori dalla casa Ecco cosa è successo I due ragazzi sembrano essere più in sintonia che mai e non è in grado proprio nulla di separarli. A quanto pare, Ignazio dopo essere stato eliminato ha raggiunto la showgirl argentina in albergo e lo testimonia anche una foto, pubblicata dal bel ciclista. Sarà vero amore e riusciranno ad andare avanti nonostante le continue critiche sarà tutto da vedere. Cecilia e Ignazio